Se avete la necessità di andare a modificare la vostra posizione sulla mappa in maniera virtuale, creare un tracciato virtuale che vi faccia spostare da un punto A a un punto B o addirittura inserire anche delle tappe così come muovervi sulla mappa stessa attraverso un joystick e scegliere al momento dove trovarvi, siete nel posto giusto perché oggi vi mostro un software che ci permette di effettuare questo ma vi spiego anche perché può essere utile qualcosa di questo tipo. Come sempre subito dopo la sigla. Tornano gli amici di Tenorshare con il loro software iAnyGo, un'app che ci permette di andare a modificare in maniera virtuale la nostra posizione sul nostro smartphone sia di tipo Android sia di tipo iOS, quindi nessuna limitazione in tal senso. Perché può essere utile un software di questo tipo? Cioè perché può esserci utile andare a modificare la nostra posizione? I motivi possono essere davvero tanti. Pensate per esempio alla privacy, chi non vuole far sapere dove si trova? Qualche volta anche per lavoro ci sono dei tracciamenti ed è importante non far sapere la propria posizione. Penso ad un investigatore privato, penso a qualcuno che è sorvegliato costantemente, chiaramente sempre nei confini della legalità. Allora voi potrete simulare una posizione, ma questo software non è una semplice VPN, insomma lo fanno in tante, ma vi permette anche come vi dicevo di creare un tracciato, quindi di farvi spostare dalla posizione A alla posizione B, farvi scegliere anche delle tappe intermedie o muovervi con il joystick. Ma un altro utilizzo interessante che poi, probabilmente quello più gettonato, è cambiare la propria posizione, creare dei movimenti all'interno di alcuni giochi online che richiedono proprio questo requisito. Cambiare la posizione vi permette di accedere a dei contenuti che magari fino a quel momento vi erano preclusi, poter accedere a dei plus del gioco stesso legati alla posizione, ma può essere utilizzato anche per accedere a contenuti in streaming che nel vostro paese vi sono preclusi. Quindi come capirete gli utilizzi possono essere davvero molteplici, chiaramente poi sta a ciascuno di noi utilizzarlo nel migliore dei modi. Prima di partire vi lascio i link qui sotto in descrizione, vi dico che sui sistemi iOS dovremo attivare la modalità sviluppatore perché l'applicazione sarà scaricata tramite un software, prima di tutto installato sul nostro computer, sia Mac sia Windows, che poi andrà ad installare questa applicazione. Non preoccupatevi perché si tratta di certificazioni sicurissime, non succederà nulla, tra l'altro come sapete con il prossimo aggiornamento di iOS saranno sbloccate tutte quante queste funzionalità che apriranno a store di terze parti, ad applicazioni di terze parti, quindi tutto comunque certificato perché è chiaro che i controlli Apple al di là del Play Store o meno vanno comunque superati e quindi è un'applicazione, torno a ripetere, totalmente sicura. Stesso discorso su Android dove dovrete abilitare le opzioni sviluppatore e il debug USB, ma l'applicazione vi dirà tutti quanti i passaggi da effettuare tranquilli. Non mi dilungo e andiamo a vedere questo tutorial. Come di consueto la prima operazione da dover effettuare è quella di scaricare il software dal sito web del produttore. Come ogni volta vi lascio il link qui sotto in descrizione. Allora rechiamoci proprio sul sito web e guardate Tenorshare iAnyGo. In questo caso c'è la versione per Mac, ma guardate è disponibile anche la versione per Windows, quindi andiamo a guardare un attimo le caratteristiche. Con un click possiamo cambiare la posizione di iPhone, ma anche di smartphone Android in qualsiasi luogo. Possiamo andare anche ad utilizzare una sorta di joystick GPS, così da andare a controllare anche la direzione di spostamento. Possiamo andarci a posizionare in qualsiasi luogo, proprio mentre stiamo utilizzando il software, quasi come se stessimo camminando e di conseguenza anche tracciare un percorso. Comunque sia, lo vedremo tra poco. Allora andiamo a scaricare il software cliccando su Download gratis e ovviamente andatelo a posizionare sulla cartella a voi più congeniale. Nel mio caso lo andrò a mettere proprio sul desktop. Applicazione aperta. Ecco, si presenta in questa maniera abbiamo diverse possibilità. La prima ci permette di cambiare la posizione. Ci troviamo, come nel mio caso a Termoli, voglio andare a Milano e quindi mi vado a posizionare su un punto della cartina di Milano, ad esempio. Qui abbiamo la possibilità invece di andare a tracciare un movimento a singolo punto, che significa partire da una parte e arrivare da un'altra, quindi andare a tracciare un percorso che mi porti dal punto A al punto B. La terza possibilità invece è quella di fare la stessa cosa ma multipunto, quindi di andare a posizionarmi in punti diversi della cartina, magari mentre sto effettuando un viaggio simulato ovviamente. L'ultimo, quello che vi anticipavo in precedenza, è quello che ci permette di andarci a muovere sulla cartina con una sorta di joystick, quindi posizionarmi dove voglio ma muovendomi, quindi simulando un percorso che non sia prestabilito come quello precedente, ma un percorso che posso andare a scegliere di volta in volta. Allora andiamo a provare una di queste, per esempio la prima, cambia posizione, qui mi dice entra. Cosa significa? Che dovrò andare a collegare il mio smartphone, posso scegliere come vi dicevo se Android oppure iPhone e poi andare a scaricare sull'iPhone stesso tramite il software, non tramite Play Store o App Store in base allo smartphone, l'applicazione, quindi lo vado a fare. Vado a collegare il mio smartphone, vado a scegliere qui sul mio desktop iPhone e poi vado a cliccare avanti. Intanto l'iPhone è connesso, vi faccio vedere comunque e qui mi chiede di seguire alcune istruzioni. Prima di tutto recarmi nel menu privacy e sicurezza. Allora, impostazioni, scorro, privacy e sicurezza. Poi mi chiede di andare all'interno della modalità sviluppatore, lo vedete qui. Andiamo. abilitiamo la modalità sviluppatore e adesso mi chiede di riavviare il mio dispositivo. Clicco su riavvia e attendo che lui si sia riavviato. Torniamo intanto su iPhone, clicchiamo su avanti ed ecco la modalità sviluppatore è stata riconosciuta. Adesso mi chiederà la password del Mac, quindi vado a inserire il mio codice ed ok. Ovviamente questi sono passaggi che dovremo effettuare la prima volta. Vado a cliccare adesso su attiva pop-up. Sblocca il tuo dispositivo e autorizza. Torniamo sul nostro smartphone e autorizziamo l'operazione. Andiamo anche qui ad inserire il nostro codice di sblocco. Intanto qui vedete mi compare dispositivo che si sta collegando ed ecco sono qui all'interno della mia interfaccia. Eccomi qua. Allora possiamo andare a cambiare l'indirizzo. Lui mi ha già impostato Milano. Vedete è su iPhone ma posso collegare contemporaneamente anche uno smartphone Android. Posso andare a scegliere le diverse modalità quelle che vedevo all'inizio anche da qui. Chiaramente posso muovermi con lo zoom nella cartina. Posso spostarla. Vado a mettere che ne so corsico ecco qui comincia a modificare e mi avvisa di prestare attenzione. Alcuni giochi LBS ovviamente potrebbero non funzionare ma soprattutto in alcuni casi particolari in alcuni dispositivi non su tutti ecco che potrebbe diventare caldo lo smartphone. Magari potrete metterlo non lo so su una base ventilata o in un ambiente un po' più fresco. Comunque ci avvisa. Clicchiamo su continua ed ecco che la modifica della posizione è iniziata. Provò adesso ad aprire la mappa sul mio smartphone. Vado a prendere proprio le mappe di Apple ma funziona anche con Google Map e guardate se vado a rimpicciolire guardate dove sono proprio su Corsico. Vi vado a rimettere la schermata anzi vi metto questa. guardate Corsico qui e Corsico qui. Ma proviamo adesso a cambiare indirizzo e mettiamo Roma. Comincio a modificare. Vado qui e vedete come ho cliccato sul pulsante per andare di nuovo a centrarmi Roma. Questa volta proviamo quest'altra modalità la modalità movimento quindi mettiamo punto di partenza abbiamo messo piazza del Campidoglio lasciamo qui punto di arrivo mettiamo Milano. Ok abbiamo impostato il punto di arrivo adesso andiamo a scegliere come muoverci mettiamo la macchina così va più veloce e clicchiamo proprio su inizia a muoverti e lui andrà a simulare proprio il nostro percorso e ci farà vedere che si sta spostando posso cambiare ovviamente la velocità posso andare a scegliere insomma tutti i parametri che voglio e se vado a mettere nuovamente la mia mappa qui non vedrò il percorso ma se vado a zoomare guardate mi sto muovendo come vi dicevo queste operazioni sono importanti sono utili quando vogliamo simulare una posizione in diverse app su diversi siti ma ad esempio anche su Netflix no qualora volessimo collegarci ad un altro paese far risultare la nostra posizione capirete come vi anticipavo che non è una semplice VPN proprio perché qui si può andare a simulare un percorso vi dicevo anche il percorso con più punti quindi la stessa cosa ma andare a mettere più tappe oppure quella con il joystick ecco qui posso andare a muovermi in questo modo in base alla posizione guardate posso tenerlo fisso posso andare a cambiare qui sopra e lui si va a cambiare e ovviamente anche sul mio smartphone vedete la posizione si sta muovendo in base alla posizione che si sta muovendo anche sul mio computer perfetto amici spero davvero che questo video vi sia stato di aiuto utile soprattutto in alcune circostanze mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti io vi saluto lasciate un like iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video ciao iscrivetevi al canale